all'altezza e all'aspettativa perché l'altra cosa che mi fa piacere è che prima offline mi ha anticipato una notizia, insomma una promozione super esclusiva, una roba che non sapevo e quindi bene così perché veramente. Nessuno addirittura due ma lo diciamo dopo, io prima vorrei fare un po' come Davide che chiede se tutto funziona uno e due, sappiamo questo potere. Ormai proprio citi il grande esperto ormai. Salutiamo perché sicuramente ci sta seguendo però a parte gli scherzi diteci se vedete e sentite correttamente quindi per favore scrivete uno in chat se tutto ha posto a livello di audio e video e due se avete qualche problema ma non dovremmo perché mi sembra che tutto funzioni alla perfezione. Posso raccontare un retroscena nel frattempo che ci sistemiamo? Davide mi ha chiamato prima e Davide se ci ascolti non ti ho risposto perché dopo la partita di ieri per chi non segue il calcio sai che Napoli ha perso con l'Inter, non me la sono sentita amico mio quindi non sono dell'umore giusto per rispondere e quindi ti richiamerò quando mi torno, quindi penso fra qualche anno perché considerano i risultati sportivi e così ci vuole un po' di pazienza. Tu perché squadra tipi Stefano? Ecco Davide, Davide dice vedo e sento tutto quindi Davide ha sentito anche questa cosa dell'Inter, io l'Atletico e il Milan. Come è andato l'Atletico? Ma l'Atleti ti devo dire che non lo so perché quest'anno non è che sia seguendo, so che il Milan ha migliorato tanto, lo vedo dai miei figli. Sì, stasera c'è una partita alle sette, mi hanno detto, non so quale. Vabbè, insomma sei un tifoso light. Sì, è l'acqua di rose, sì, 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 sì. Già il fatto che uno ti fa due squadre se ci pensi a contraddizioni in termini, divertifichi il rischio su due squadre, non è che va molto bene comunque. Senti, oggi invece a proposito di rischio parleremo di una cosa molto importante, secondo me anche molto attuale perché investire seguendo le mani forti significa andare a vedere un tool che tu da tempo hai preparato e utilizzi e anche io ho avuto modo di utilizzare e apprezzare. Lo avevamo mostrato qualche volta, market briefing però merita uno spazio a sé stante, proprio per capirne un po' la dinamica si chiama Big Short Hunter, è dedicato al mercato italiano ma ne parleremo, di fatto ci fa vedere, ci fa capire quello che fanno le mani forti e in base a questo cercare poi di prendere le nostre posizioni. Cioè utilizzare questa informazione disponibile e selezionata e preparata poi come ci spiegherai da questo tool per poi utilizzarla nel nostro trading quotidiano. Tra l'altro sono giornate molto particolari perché l'oro sale, il silver sale, massimi storici, è salito anche il bitcoin e quant'altro, i mercati sono un pochino uniformi, non sappiamo se per l'estate o aspettando appunto il famoso autunno caldo che ci aspetta, che sarà un po' redderazione ma a mio avviso su quello che accade. E secondo me un tool come il tuo, mai come quest'estate, è qualcosa che dobbiamo imparare a utilizzare. Se vuoi iniziare a dirci di che cosa si tratta? Molto volentieri Stefano, in realtà ti anticipo che non sarà una presentazione del tool perché con sto caldo cosa neanche ci abbiamo tanta voglia di fare. Io vi presenterò quella che è un po' la mia filosofia di trading che sostanzialmente parte da un assunto di base, l'assunto nel quale credo veramente profondamente è il seguente. Il mercato è sostanzialmente un gioco a somma zero dove ci sono alcuni player che tipicamente nel tempo perdono soldi e questi come sai sono ahimè gli investitori retail, quindi noi tutti. E questi soldi di fatto vanno nelle casse di altri tipi di investitori che tipicamente sono gli investitori istituzionali, ovvero quelli che probabilmente elaborano in maniera migliore le informazioni. Non oso dire che hanno le informazioni prima perché chiaramente questo è un reato penale, ma insomma in ogni caso la fotografia è la seguente. Ci sono un numero di operatori limitati che sostanzialmente incassa le risorse di chi invece di quello che in maniera molto volgare viene detto il parco voi, nel senso gli investitori retail che si avventurano nei mercati con una più o meno elevata capacità di farlo. Questo se ci pensi, io e te e Stefano ci conosciamo da vent'anni, sono vent'anni che seguiamo seminari fisici online, è un concetto che aleggia da molti anni, il 90% degli investitori privati perde soldi, è una cosa abbastanza un tormentone se ci pensi. Il numero era un po' spannometrico, in realtà c'erano alcune ricerche in particolare sul mercato tedesco e quant'altro, adesso ha preso più forma perché come sai con Esma i broker CFD devono dichiarare nella loro on-page la percentuale degli investitori perdenti. Adesso se avete voglia mettete un broker di CFD a caso vi accorgerete che in un page tipicamente nel footer nella parte inferiore c'è scritto il 70% e dispari per cento degli investitori di retail. Nel migliore dei casi è il 70% che perde, a volte si arriva all'80% e passa. Esattamente, noi abbiamo fatto un'analisi però siamo ad agosto, è una bella giornata, è meglio che non ve la faccio vedere, però insomma in linea di massima siamo in linea di principio che i tre quarti spannometricamente perdono soldi. Qui andrebbe aperto una parentesi perché il meccanismo per dire perdono soldi bisognerebbe capire in che orizzonte temporale, con quali strumenti, però insomma per farla breve penso che più o meno siamo tutti concordi sul fatto che l'investitore di retail perde soldi. Tu che sei in diretta sicuramente hai un osservatore privilegiato, immagino che per questioni di servatezza non è possibile dirlo, ma in linea di principio penso che in linea di massima si può confermare questa roba qui. No, ma più che altro si notano a volte statistiche di pubblici anche evoluti, quali sono quelli cui ci rivolgiamo noi anche con Market Briefing e anche con altre iniziative didattiche, quindi devo dire che c'è poi una parte alta, infatti avevo letto recentemente ma non so se riesco a recuperarla, una sottostatistica perché poi diceva di quel 20% o 30% che guadagnano, bisogna poi togliere quelli che vanno in pari, perché tu dici il 70% perde, però del 30% rimanente c'è chi va in pari e già è un'altra fetta perché dice non perde ma va in pari e quindi la percentuale di chi poi guadagna è ancora ridotta. Infatti uno dei grandi temi, soprattutto a livello didattico che io da sempre tendo a insegnare è dire iniziamo a imparare a non perdere e poi dopo ci preoccupiamo dell'altra cosa perché sono due componenti importanti. Adesso poi mentre fai il webinar vado a cercarmi la referenza e se la trovo ve la propongo. Bene, allora direi una volta condiviso questo concetto, su questo siamo abbastanza oggettivamente d'accordo, allora proviamo a fare il passo successivo, cioè per entrare in quella piccola elite di investitori privati che guadagna, secondo me si possono fare due cose sostanzialmente, o si fa il contrario di quello che fa sostanzialmente per capirci la casalinga di Voghera, cioè la media degli investitori retail, sei d'accordo con me che se il 70% degli investitori privati perde, se tu fai esattamente l'opposto alla media di investitori privati ti metti in una condizione estremamente... Ma guarda, io questa cosa l'ho fatto ad un livello tale che ieri sempre con i miei figli, loro giocano a fortuna e purtroppo ci abbiamo sta croce e ogni partita hai 100 partecipanti, non so se lo sai ma presto anche tu entrare a fare 100 partecipanti. Eh, però vanno, 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 ed è eliminazione, no? Quindi dice vediamo e via via ti elimini, insomma ieri abbiamo fatto una partita senza fare nulla e siamo arrivati tipo trentesimi, cioè i primi 70 si sono impegnati facendo e facendo eppure hanno perso. Quindi questo è un altro grosso insegnamento che secondo me si collega con quello che abbiamo detto finora e nel trading forse è ancora più vero che a volte stare fermi già ti salva da quei 70, no? Perché uno dice per non guadagnare né perdere io non faccio nulla, arrivo trentesimo, un po' come abbiamo visto ieri. Chiaramente questo non è la via giusta, però qualcosa che fa riflettere, secondo me che si collega con quello che dici tu. Sì, no, il movente evidentemente non può essere il pari, è chiaro, è anche superfluo che lo dica perché sennò uno non agisce. Il movente deve essere chiaramente quello di spostarsi in questa nicchia positiva, ma molto banalmente, no? Senza tirare fuori, come dire, cose volute. È abbastanza, cioè o per guadagnare o fai l'opposto di quello che fa retail oppure fa quello che fa l'istituzionale. È oggettivo, no? Nel senso che se abbiamo detto che c'è un flusso di denaro che si possa da retail verso gli istituzionali, è evidente che se fai l'opposto di quelli che perdono guadagni, oppure devi cercare di fare quello che fanno gli investitori retail. Rispetto a quello che fanno l'opposto di quello che fanno i retail, magari ne organizziamo un altro seminario, perché anche lì ho delle strategie, soprattutto sul Forex, perché ci sono delle robe che ti danno un piccolo edge, cioè ti fanno capire dove stanno investendo i retail. Quindi lì qualcosa si può fare, ma oggi ci concentriamo su cercare di fare quello che fanno gli investitori istituzionali, cioè cercare di imitare il loro comportamento. Perché pensiamo, e io lo credo profondamente, che nel lungo termine gli investitori istituzionali tendono ad avere ragione. E qui anche per ragionevolezza, no? Per una questione darwiniana, nel senso che se tu perdi i soldi a lungo, muori, no? Quindi non ci saresti più. E se ci pensi, le grandi istituzioni finanziarie invece sono in vita e in ottima salute da centinaia di anni, e questo dimostra che se non fossero in salute, darwinianamente sarebbero morti. Quindi sostanzialmente il senso di tutto, e qui c'è un po' la filosofia, la mia filosofia è quella di essere sostanzialmente Bastian Contaria. Ti dico che quando sento in televisione o sui social o quant'altro degli investitori molto interessati all'acquisto di un titolo, tipicamente mi preoccupo molto se anche io lo sto acquistando. Invece sono molto rilassato quando lo vendo. Ti posso dire l'ultima cosa fra il serio e il faceto. Noi per anni abbiamo gestito un forum che si chiamava Mai Rire Bozzi. In realtà esiste ancora, però chiaramente Facebook ha cannibalizzato un po' tutto per ovvie ragioni. E ti posso dire, caro Stefano, in maniera non scientifica, perché i numeri rigorosi non ce l'ho, ma ti posso dire che ogni volta che gli utenti di Mai Rire Bozzi sponsorizzavano l'acquisto di un titolo, nel 70, 80 o addirittura 90% dei casi tipicamente il titolo scendiva. È un po' una, come dire, un po' una maledizione che si associa agli investitori di retail, che secondo me dipende sostanzialmente da un meccanismo particolare sui mercati, nel senso che gli investitori privati tendono ad andare contro trend, cioè tendono ad acquistare i titoli deboli e a vendere i titoli forti. Perché? Perché intuitivamente se io ad esempio ti offro, che ne so, questo cellulare a 300 euro oggi e domani te lo offro a 200, diciamo, mazza che affari, me lo compro. E quindi tipicamente si tende a replicare questo modello decisionale anche sui mercati. No, allora dice, ok, Saipem ieri valeva 2,20, oggi vale 2, è un affare, e tutti tendono a comprare un titolo che scende e viceversa a vendere un titolo che sale. Cosa che se ci pensi è esattamente contraria alla prima regola dell'analisi tecnica finanziaria che ti dice trend, risort trend. E visto che sul mercato ce ne sono pochi di amici, è bene tenerselo. Se tu compri un titolo che scende, stai operando contro trend, e quindi tipicamente ti sei messo le probabilità a conto. Quindi perché gli investitori privati perdono? Uno, perché tendono, hanno questa, come dire, istinto suicida a comprare i titoli che scendono perché pensano che sia affari e a vendere troppo presto i titoli che salgono. E due, quando sei in profitto hai paura che il profitto virtuale diventa perdita e quindi subito chiudi la posizione. Quando invece sei in perdita, ti innamori della posizione, fai fatica a chiuderla con una piccola perdita, è tipicamente una piccola perdita, poi diventa una voragine. E come sai, per recuperare ad esempio una perdita del 50%, non è più necessario un guadagno del 50%, perché se fai il più 50 su 50 euro, considerando essere partito con 100, arrivi a 75. Quindi il motivo per il quale gli investitori retail perdono, secondo me, è duplice, tagliano i profitti e allungano le perdite, e perché tendono a comprare titoli deboli e vendere titoli forti, che è l'opposto di quello che bisogna fare. Quindi ci siamo anche spiegati il motivo per il quale tutti perdono, ma essendo più concreti cerchiamo adesso di trarre vantaggio dalle informazioni. Perché sai, detto così è un po' filosofico, diciamo ok, tutto a posto, però adesso come ci mettiamo nella parte del 15-20-25% che guadagnano, secondo me, seguendo le mani forti. E allora bisogna anche qui fare un passo indietro. Non voglio tornare al 1609, anno in cui per la prima volta in qualche modo si iniziò a palesare l'idea di vendita allo scoperto. Che cos'è la vendita allo scoperto? Anche questo è un concetto che soprattutto, se ti ricordi Stefano, quando abbiamo iniziato, noi era piuttosto complicato da far capire. Io anche, e non ti nascondo, che quando arrivo a casa la sera, magari siamo con mia moglie, guardiamo il telegiornale, sai la classica notizia, la borsa di Milano brucia 200 milioni di euro, invece mia moglie mi è tutto contento. Il fatto che io sia contento, o possa essere contento quando il mercato scende, secondo me non l'ha ancora capito bene, nonostante che abbia spiegato. È un po' come il fuorigioco. Tu hai mai provato a spiegare alla tua compagna il fuorigioco? È uguale, è una cosa un po' come, cioè è semplice, ma non tutti riescono a ferrare. Qual è il concetto di short selling? Che tu vendi un asset senza possederlo, te lo fai sostanzialmente prestare all'intermediario, con l'auspicio di ricomprarlo a un prezzo più basso. Questo è il meccanismo di short selling, cioè si lucra auspicando che il prezzo scenda, anzi che salga. E anche questo, se ci pensi, è un po' antiintuitivo, e lo dimostra come poche persone riescono a capire questo concetto. Adesso aggiungo che secondo me, se tu provi ad entrare sul mercato non avendo l'opportunità di lucrare sia quando il prezzo sale che il prezzo scende, sostanzialmente ti sta inibendo oltre o circa il 50% di probabilità di successo. È come dire, Stefano, andiamo a fare una partita a calcetto, a calcio, noi giochiamo in 11 e tu giochi in 6. E' chiaro, magari voi siete fenomeni e ci potete battere, ma alla lunga la squadra con 11 la batte la squadra con 6. Cioè, entrare sul mercato lucrando in una sola direzione è assolutamente sconsigliabile. Io aggiungo che in realtà non si deve lucrare in due direzioni, ma in tre direzioni, perché il trader profittevole e il trader professionale, come sai, ha anche la capacità di lucrare sul mercato laterale, ma qui avremo un'altra lunga parentesi, ci possiamo giocare un altro webinar anche su questo, su come lucrare sui mercati laterali, che è molto interessante perché gli investitori più scafati sanno che per il 70% del tempo il mercato si muove laterale e quindi bisogna essere assolutamente dotati di strumenti che ti consentono di lucrare anche in questo ambito. Detto ciò, lo short selling. Lo short selling, abbiamo detto, c'è stato il primo accenno di short selling, l'ha fatto la famosa storia delle compagnie delle Indie, sostanzialmente una storia fra leggende, mitologie e realtà. Poi Pietro, non so se hai anche delle slide di supporto, le voi miei. Le sto proiettando? Ah, ok, ho proiettato mezz'ora di slide, non si sono viste, perfetto, vedi se uno proprio... Aspetta, eh, dunque ce la posso fare. Aspetta, abbiamo provato anche prima questa roba qui. Andiamo poi alla fine. Ok, ce l'ho fatta. Olè. Le slide, fra l'altro, grazie Stefano per avermelo segnato, le slide sono assolutamente a vostra disposizione. Esatto. Ok, quindi ricapitolando i concetti chiave, ma se volete, visto la mia, come dire, in attitudine informatica, ve le mando volentieri, basta essere scritte a info. Info, chioccio alla sostenere.it, abbiamo detto 90% perde, basti anche un trariano, short selling, e la prima, la prima, il primo short selling che risale addirittura alle compagnie delle Indie, quasi 400 anni fa. Detto ciò, tornando più concretamente all'attualità, devi sapere che c'è una normativa che regola lo short selling, sostanzialmente chi decide di investire una quantità rilevante, lucrando sulla discesa di un'azione italiana, è obbligata, secondo l'attuale normativa, anche qui c'è il link, è obbligato a segnalare questo suo short rilevante all'autorità di controllo dei mercati locali, nello specifico a Consum. Quindi che cosa succede? Che se io sono un investitore istituzionale e vendo allo scoperto una quantità rilevante di azioni italiane, per quantità rilevante si intende la soglia dello 0.5 del capitale, quindi quando supero questa famigerata soglia dello 0.5, e quindi short più dello 0.5 del capitale di un'azione italiana, devo alzare il ditino virtualmente e dare comunicazione a Consum. Consum provvederà a pubblicare questa informazione sul suo sito e quindi di fatto chiunque decida di shortare, di lucrare pesantemente a ribasso su un titolo italiano deve di fatto segnalare questa sua peculiarità a Consum e lo deve fare giorno per giorno se supera questa fatidica soglia dello 0.5. E allora questa è un'informazione pubblica, chi scrive su Google posizioni nette, corte, Consum troverà chiaramente questo file, che però è un file aggiornato tutti i giorni intorno alle 16 da Consum, che però è un file che preso così dà delle informazioni che addirittura possono essere fuorvianti. E da qui la mia idea di rielaborarlo in questo tools che poi dà delle informazioni che sono invece estremamente operative e pratiche che ti consentono poi di prendere delle decisioni di investimento assolutamente interessanti. Allora, chi controlla chi fa la comunicazione, cioè che tutti la facciano, è obbligatorio? Cioè si incorre in sanzioni enormi se non si fanno le comunicazioni? È corretto la Consum? Sì, assolutamente. Il classico, diciamo, retropensiero giusto che tutti noi abbiamo, è chiaro che ci sono delle sanzioni, insomma, noi parliamo di fisiologia, poi se c'è qualcuno che va contro la normativa questo, diciamo, è più un problema di carattere legale che altro. C'è un obbligo assolutamente di legge e quindi bisogna assolutamente rispettarlo. Poi dire che c'è qualcuno che non lo faccia mi sembra un po' coraggioso, mi sembrerebbe abbastanza strano detto che non mi meraviglierei di fronte a nulla, noi che siamo, siamo, come dire, in finanza, insomma, abbiamo visto di tutti i colori. Comunque, insomma, il punto della situazione è il seguente, il file preso così da... Sì, giusto per chiarire, perdonami perché si è innescato un dibattito, certo, si potrebbe fare, dice Claudio, la vendita con meno dello 0,5 sotto lo 0,49 e così via, però... Sì, no, Claudio, hai detto giusto, mi ha anticipato. Il territorio, esatto. Assolutamente sì, assolutamente sì e qui c'è una grande battaglia, secondo me, da portare avanti. Io sto provando con i miei piccolissimi mezzi, chiaramente, a cercare di sensibilizzare le autorità ad abbassare questo limite perché se ci pensi, Stefano, dare una comunicazione, magari una soglia dello 0,2 e dello 0,3 non fa che andare a maggior trasparenza dei mercati, non nuoce a nessuno e anzi può dare elementi di maggior spunti di riflessione per gli investitori di retail, sempre con la logica di cercare di ribilanciare la proporzione tra retail che perdono le istituzionali che guadagnano. Quindi è corretto quello che dice Claudio che si può galleggiare sotto la soglia dello 0,5 dello 0,05 pur di non dare comunicazione. 0,05 è corretto, sarebbe meglio se questa soglia fosse abbassata ma di fatto lavoriamo con quello che passa il convento. Allora il tema di oggi qual è? A questo proposito poi proseguiamo Pier Domenico dice ma quando parliamo del tool arriviamo e abbiamo due sorprese bellissime Pier Domenico che sono due veri e propri regali per voi quindi resistete parleremo del tool. Prego Pier. Sì, no, no, assolutamente no, sono veramente due regali grossi tanto abbastanza inaspettati così quindi bene per chi ha scelto di passare il pomeriggio con noi perché alla peggio si porta due bei regali a casa ma insomma credo che si porterà anche un bel po' di informazione a casa perché poi queste sono robe che chiaramente non si possono leggere sui manuali perché sono assolutamente mie interpretazioni non ho evidentemente la pretesa che siano le interpretazioni giuste o migliori in assoluto però secondo me è molto utile seguire l'opinione altrui per farla propria o anche no per confutarla ma insomma in ogni caso una riflessione può fare assolutamente bene detto ciò il file e le informazioni sono pubbliche prese così servono a poco allora serve uno strumento che le rielabori per renderle funzionali a un processo decisionale quindi la cosa che mi interessa fare ok Consom vi dice che l'investitore X ha un certo numero di vendite allo scoperto ma per me è fondamentale capire se ad esempio Morgan Stanley sta shortando il titolo X con il 5% di capitale shortato se quella è una dinamica di short crescente e quindi se lui sta incrementando lo short se sta incrementando lo short l'istituzionale sei d'accordo con me Stefano che evidentemente ci aspettiamo un'ulteriore discesa dei prezzi se in viceversa e quindi è importante capire la dinamica di come si sta sviluppando lo short perché se oggi è al 5% e ieri era al 7% per me quel 5% ha un'implicazione ribassista cioè stai riducendo lo short e quindi tipicamente stai coprendo le posizioni perché per ridurre lo short devi coprire e quindi mi aspetto che il prezzo saiga se viceversa oggi sei al 5% e ieri eri al 3% di short evidentemente stai crescendo nell'esposizione ribassista e quindi tipicamente mi aspetto che il titolo scenda questa è un po' dinamica quindi sul sito consob vedi un numero secco vedi ok l'investitore x ha il 3% short del capitale nazione y ma non riesce a capire se effettivamente quella è una posizione che sta smontando una posizione short che sta smontando e quindi ha un'implicazione di alzista o ha una posizione short che sta crescendo e in quel caso avresti l'implicazione ribassista ma senza entrare troppo nel tecnico l'unica cosa che aggiungo perché ce lo chiedevano ed eccoci qua con il nostro tool finalmente sì le mani forti si possono seguire anche sulle commodities c'è il commitments of trader che tra l'altro trovate sul sito trading week nel sito di Davide adesso ve lo lascio subito in descrizione nei link per poter avere una specie di tool dove si vedono le posizioni dei grandi gestori ma anche di quelli che usano le commodities come materie prime vere e proprie e per la produzione vediamo il tool allora big short hunter giusto? big short hunter ok allora le slide ve le avevo belle preparate e quant'altro ma direi di entrare se per te va bene a fare una roba operativa così cerchiamo anche di avere delle informazioni e vi mostro esattamente come lo utilizzo io che secondo me è il modo migliore ma le slide ve le giro ben volentieri e magari uno poi riordina il pensiero questa è la schermata iniziale il concetto che voglio trasferire sempre lo faccio vedere su banco BPM dice perfetto su banco BPM questa è la classifica dei titoli più shortati ok quindi scopriamo che Maira è il titolo che ha il 3.5% del capitale shortato ci sono due investitori che stanno shortando e invece il titolo più shortato dal maggior numero di istituzionali in questo momento è Saipem e qui andremo a fare una riflessione adesso guarda al volo come stanno procedendo i mercati e Saipem come vedi sta a meno a meno 10 meno 9,43 quindi sappiamo che questi 4 investitori istituzionali che sono questi qua adesso stanno aprendo una bella bottiglia di champagne perché evidentemente stanno guadagnando molti soldi avendo perso il 10% avendo ad esempio Cittadeli Europe shortato l'1,17% del capitale veramente sta guadagnando tanto adesso anche qui Stefano bisogna far capire le grandezze cioè l'1,17% del capitale di Saipem è una cifra gigantesca in termini monetari e perché parliamo di mani forti di investitori istituzionali perché per quanto tu sia capitalizzato e so che sei super capitalizzato non credo che ti puoi permettere di shortare ma neanche lo 0,1 di una Blue Chips stiamo parlando di milioni di euro e questo in qualche modo differenzia la capacità di individuare solo investitori istituzionali perché ribadisco stiamo parlando di quantità estremamente elevate ma anche sulle small cap cioè shortare lo 0,5 del capitale di una quotata è veramente vuol dire avere le spalle grosse quindi la prima schermata ti dà quella che è il ranking ti dà la classifica aggiornata come vedi con il verde ci sono le posizioni in crescita ad esempio su Tenaris vedi è al 17esimo posto però se vai col mouse sulla freccetta vedi che il previous rank cioè la classifica che aveva ieri era il 17esimo è il 30esimo posto quindi ha guadagnato tre posti in classifica perdon 13 posti in classifica e quindi evidentemente qui le posizioni stanno crescendo quando trovi massimo vuol dire che il titolo non è mai stato così shortato e quindi qui ad esempio guardando il grafico di DataLogic scopriamo vedi questo descrive nel tempo se vai col mouse sopra trovi la data e quindi descrivi il fatto che DataLogic nello specifico non è mai stata così shortata quando invece trovi NewMax vuol dire che proprio nella giornata di oggi dopo il movimento delle mani forti il titolo è andato su noi massimi e qui è molto interessante guarderemo su IMA oggi sai c'è stata l'OPA su IMA anche questo è interessante questi invece stanno piangendo chiaramente questi investitori perché poi ti mostrerò come evidentemente certe volte anche gli istituzionali sono una parte sbagliata ma anche qui noi avremo un sistema per capire se effettivamente quando e come si sono sbagliate ad esempio si sono sbagliate anche su Ubi alcuni investitori si sono trovati un po' spiazzati dall'OPA di Ubi Sintesa e vi mostrerò nel proseguo anche come è possibile farlo quindi prima schermata in due parole ti dà la classifica grezza la classifica grezza elenca prima per posizioni e poi per numero di investitori che sciottano l'informazione successiva invece sono massimi insomma i titoli che non sono mai così stati sciottati nella storia e questo insomma è un primo elemento interessante altro elemento interessante è questo indice che si chiama Netshot Index questo indice aggrega invece tutte le PNC cioè fa la somma delle posizioni nette corte sulle azioni italiane sull'aggregato delle azioni italiane e qui vedi un'informazione interessante scopri che sostanzialmente il il mercato italiano che era stato preso di mira soprattutto nel nel 18 quando vedi lo shot era addirittura arrivato a 128 e 16 adesso invece siamo su un mercato meno preso di mira dagli investitori istituzionali e questo in qualche modo fa un po' l'andamento del mercato in cui nel 19 vedi lo shot si è ridotto in maniera abbastanza rilevante e in qualche modo fotografa il fatto che la ricopertura di un shot ricordo vuol dire sostanzialmente acquistare chiudere uno shot vuol dire coprire una posizione corta e quindi ricoprirsi e quindi acquistare e questo in qualche modo secondo me descrive anche l'andamento positivo del del 2019 quindi questo è l'indice generale che ti fa capire se c'è pressione o meno delle mani forti sul sull'indice italiano questo grafico può essere zoomato chiaramente se vuoi vedere dei periodi più brevi Michael Maus e vedi via via dei periodi più brevi del periodo del covid se voglia quindi da gennaio febbraio a oggi per capire perché si può usare anche come niente da dire è vero le mani forti fanno meno errori dei piccoli come noi ma sbagliano anche loro le mani forti sbagliano però ti ti ringrazio per la domanda perché mi dà mi dà in là per una riflessione importante sul covid devi non so se ricordi che consob ne a metà esatto fece il divieto di short e quindi di fatto non in quel in quel periodo che sarebbe dovuto essere lungo tre mesi ma in realtà poi se ti ricordi il divieto fu eliminato prima dei tre mesi in quel periodo chiaramente le posizioni short non potevano essere incrementate potrebbero essere solo chiuse quindi di fatto questa serie storica in quel periodo è insomma è in qualche modo vedi in discesa perché non poteva che essere in discesa nel senso che c'era il divieto di di aprire nuove posizioni short questo grafico può essere interpretato proprio al pari di un grafico di analisi tecnica cioè io se la sommatoria degli short dovesse superare questo massimo toccato il 29 giugno vedi massimo 51,86 cioè se questo valore andasse sopra i 52 sostanzialmente inizieressi a vedere una curva degli investitori istituzionali che stanno facendo le posizioni short che inizia a crescere e questo vorrebbe dire un inizio di pressione ribassista sul mercato ergo un'implicazione ribassista nei prezzi questo lo puoi analizzare esattamente come un grafico comune domande offerta su un prezzo se il grafico è crescente le posizioni short stanno aumentando e quindi tipicamente c'è da tendersi di basso viceversa se è decrescente o laterale come nel nostro caso laterale non ci sono implicazioni decrescente tipicamente un mercato che tende a salire quindi questo è l'aggregato generale cioè sono le PNC sugli indici e ti dà il mood di fondo cioè ti fa capire se effettivamente le mani forti iniziano a pompare a pressare e su questo poi se avremo tempo posso anche raccontarti guarda io farei una cosa se sei d'accordo la prima cosa sì sicuramente rispondo a chi dice in particolare Giuseppe non era stato vietato la forza italiana durante il Covid sì e l'abbiamo detto e come dice invece un altro dice le mani forti sbagliano ma muovono il mercato sì è vero ma spesso rimangono anche vittime l'abbiamo visto molto bene anche nel 2008 è questo quindi è un insegnamento che anche loro si sono ricordati c'è stato poi uno spostamento anche su altri strumenti come l'high frequency trading che diciamo ha ridotto la loro rischiosità e anche l'esposizione allora io volevo far vedere se tu sei d'accordo un attimo come si fa per vedere proprio utilizzare da solo i big short hunter perché allora prendo io un attimo lo schermo anche se c'è questo regalo doppio per il quale però dovete aspettare due giorni quindi se volete provare big short hunter in realtà dovete aspettare ancora due giorni allora tra i servizi aggiuntivi servizi supplementari che diretta propone servizi selezionati da diretta appunto per guidarti nel treno negli investimenti è finalmente entrato e a pieno titolo mi viene da dire big short hunter e da oggi ma è meglio aspettare dopo domani quindi dal primo agosto si può finalmente provare qui c'è tutta la descrizione e per provarlo come si fa chiaramente è una si può utilizzare se sei clienti diretta quindi ad esempio dalla vostra piattaforma per esempio delight potete andare su quello che è il tabellone cioè il mio conto e nella parte dedicata alle abilitazioni quindi punto 5 eccolo qui nella lettera A tra le abilitazioni ci sono tutti i servizi tra cui anche è appunto il big short hunter di Pietro che è entrato last but not least ultimo ma non per questo meno importante quindi andate qui e qui lo potete attivare vi consigliamo però di aspettare il primo di agosto perché ecco il primo regalo da dopo domani cioè dal primo di agosto potete provarlo per due interi mesi che cosa vuol dire? vuol dire che la prova gratuita è composta dal mese corrente più tutto il mese successivo chiaro che se lo attivate oggi avete una piccolissima porzione di luglio e poi tutto agosto se invece aspettate l'uno di agosto lo avrete fino a fine settembre quindi due mesi pieni di big short hunter gratuito dovete solo ricordarvi di attivarlo sabato mattina il primo agosto quindi molto facile appuntatevelo avete due mesi in omaggio e sempre sabato caro Pietro l'altra grossa novità è che c'è per la prima volta ma questo ve lo dico un po' di rapina perché non è ancora ufficiale però sì che partirà sabato c'è una grossa offerta per i nuovi clienti diretta quindi chi è già cliente va qui sul suo tabellone sabato mattina e ripeto dalle info quindi da quella che è il tabellone si va sulle info si va sulle abilitazioni al punto A e poi ci si attiva eccolo qua al big short hunter e abbiamo dal primo agosto due mesi di prova però sempre dal primo agosto ci sono in omaggio 100 euro di bonus commissionale per chi diventa cliente cioè a dire Pietro se tu diventi cliente oggi niente invece se aspetti sempre sabato mattina riempi il modulo d'adesione metti questa c'è un codice promozionale che si chiama estate 100 ma ripeto lo promuoveremo in tutti i modi e avete anche 100 euro di bonus commissionale per diventare clienti di rete insomma questo è un vero gioco a somma zero direi perché ti vecchi due mesi gratis di big short hunter 100 euro di bonus commissionale tutto a partire da sabato mattina cioè dal primo di agosto quindi direi meglio di così Pietro cioè bonus commissionale Stefano vuol dire che se tu fai le prime operazioni sui primi 100 euro non paghi nulla giusto se fai di commissioni a parte c'è qualche limitazione sul mercato delle max perché appunto ci sono delle limitazioni a ESMA ma a parte quello diciamo che sulle azioni che sono per esempio quelle più tradate e anche oggetto del nostro big short hunter le commissioni esatto i 100 euro sono assolutamente abbonati quindi direi quindi ricapitolando di aspettare sabato esatto sì esatto tu le hai detto una cosa un po' come dire direi alla napoletana lo dico perché sono napoletano cioè ma curva se l'ora apri oggi cioè se chiedi la prova oggi trovi solo agosto invece se la chiedi sabato trovi agosto e settembre due mesi guarda ti faccio vedere di rapina anche l'offerta dei 100 euro eccola qui non è ancora ufficiale quindi davvero questa cosa ve la faccio vedere di corso e poi la chiudo ricordatevi solo di segnare il codice promo estate 100 quindi aprendo il conto con questo codice promo estate 100 adesso lo chiudo perché sennò qua veramente sto rischiando perché parte sabato mattina esatto segnatevi il codice promo estate 100 per chi non è cliente e da sabato mattina riempiendo il modulo d'adesione lo aggiungete nelle note e ricevete 100 euro il bono commissionale e poi fate per chi è già cliente o per chi non lo è dalla piattaforma diretta in modo molto semplice andate su quello che si chiama tabellone cioè sulle info punto 5 abilitazioni e qui sotto le abilitazioni vi abilitate a due mesi gratis di Big Shop Hunter tutto agosto e tutto settembre quindi per la prima volta facciamo un'offerta dicendo non la fate oggi aspettate è vero siamo un po' dalla parte del giaguario però insomma nella peggiore dell'ipotesi chi ha già il conto si becca due mesi gratis del tools e anche chi non lo ha basta che aspetti sabato e si becca anche 100 euro chi non lo ha invece si becca 100 euro di commissioni free e il tools gratis insomma mi sembra veramente due super notizie allora l'altra cosa Pietro poi proseguiamo sicuramente dice perché non inserite anche l'altro servizio che offre SS3 del servizio dei segnali tra i servizi aggiuntivi di diretta allora vi devo dire una cosa molto molto importante vi sono ancora il monitor poi te lo cedo allora nei servizi aggiuntivi che trovate appunto sul sito di diretta in realtà Pietro mi sembra tu avessi già da tempo un altro servizio aiutami a ricordarlo e però c'è anche il progetto poi di andare avanti sono tutti servizi aggiuntivi vedete ci sono i servizi di Davide il tv spread il tv book il tv alert di Paolo Belvederesi il servizio che so di lapidari just etf molto avanzato perché è molto utile soprattutto in questo periodo per chi fa etf il big short hunter di Pietro che però dai là e non è Davide ad esempio ha due servizi non è limitante a uno quindi Pietro secondo me andando avanti potrai anche aggiungere gli altri servizi o no assolutamente sì vediamo vediamo come come viene ricepito questo questo tool io onestamente lo utilizzo da anni anche qui devo fare come dire un outing nel senso che io l'ho sempre fatto per molti anni in sordina avevo il mio file excel che mi faceva un po' come dire un po' in sordina senza poi nel tempo l'ho sistematizzato in maniera anche un po' più complessa ma la cosa che chiederei a chi deciderà di provarlo è anche qui fare una sorta di scambio nel senso che questo è un tool che realizziamo noi produciamo noi con nostri tecnici e quant'altro non ti nascondo Stefano che molte cose nuove che abbiamo messo che adesso magari ti mostro anche sono state richieste degli utilizzatori nel senso che essendo un software proprietario chi lo utilizzerà nei prossimi due mesi e diciamo ha avuto questa questa fortuna di farlo grazie a Direkta chiedo però uno scambio a fronte la legge di attrazione quando uno riceve bene anche che dia e quindi lo scambio è semplicemente voi provatelo poi se c'è qualcosa che volete sarebbe carino implementare anche questa funzione state certi che se io la ritengo utile lo farò in primis per me perché lo utilizzo per me e quindi diciamo lo scambio potrebbe essere anche quello di suggerire eventuali funzioni perché se sono sensate sicuramente ricepiamo per dirti Stefano che è un tools anche in aggiornamento se c'è qualcosa che possiamo implementare lo faremo senza altro e lo farò perché interessa in primis allora ci sono già due richieste la prima se c'è un tool del genere per i titoli usa e per i future del CME consiglio a Francesco di guardarsi sicuramente il tv book di Davide perché ha molte cose in questo senso però per lo short in particolare Pietro ha in progetto di aggiungere anche titoli usa stiamo valutando lo stiamo valutando in realtà stiamo pensando prima ai titoli europei perché ho visto anche che ci sono dei movimenti concordati degli istituzionali che spesso vanno a shortare i settori nel senso che vedi quando ci sono delle mosse su più mercati tipicamente sono mosse più efficaci certo allora senti Pietro due cose perché giustamente Giulio ci dice ma ci puoi spiegare nel dettaglio come funziona e poi se c'è un tutorial operativo sul sito di SOS trader c'è c'è sul sito c'è sul sito bigshotunter.it ah c'è un sito allora il sito lo lascio bigshotunter che è il sito dedicato c'è un sito dedicato dove ci sono dove ci sono dei tutorial esatto però l'altra cosa Pietro poi ti lascio giustamente proseguire è che ci chiede allora Luigi sì per tutti la registrazione c'è allo stesso link addirittura da subito perché se tiri indietro puoi rivederlo subito dall'inizio comunque lo stesso link è presente la registrazione Roby ci chiede ma attivando il primo settembre vale lo stesso discorso sì sì due mesi di gratis mese solare scusate mese corrente e tutto il mese successivo quindi col primo settembre tu Roby ce l'avrai tutto settembre tutto ottobre il consiglio è che siccome la famosa promo ve la faccio rivedere di rapina vale solo in agosto se non sei cliente al limite fatela il 31 e col codice promo segnatevelo estate 100 lo tolgo subito se no mi sparano e io direi uno fa il 31 agosto e poi il primo settembre attiva Big Short Hunter e siamo a posto quindi diciamo che avete comunque un mese di tempo allora Pietro proseguiamo riprendi lo schermo se vuoi lascio il sito bigshorthunter.it e come dice il termine sì vale solo per lo short direi no Pietro sì assolutamente io in realtà vedo un uso contrarian anche per il long però magari quello sono solo io guarda la normativa obbliga l'investitore a dichiarare la posizione short quando supera lo 0,5 quindi però ribadisco il senso di questo strumento qual è? che se tu vedi che lo short sta crescendo e tanti investitori istituzionali stanno andando short sai che tipicamente loro hanno una maggior probabilità di essere dalla parte giusta e quindi tipicamente direi che quantomeno eviti di metterti contro le truppe corazzate no? se vedi questi che short sono come i diavoli probabilmente eviterei viceversa se vedi che è un'operazione ti faccio per esempio vedere il caso più emblematico ad esempio su Azimut no? chi segue il mercato oppure magari te lo faccio vedere più recente anche su Azimut ma su Azimut è anche abbastanza evidente che Azimut era super shortata nel 18 nel 19 e poi era addirittura al 12% e poi le ricoperture sono scattate e quindi il titolo praticamente ha fatto super bene il titolo perché fa super bene perché la ricopertura di uno short ribadisco vuol dire comprare quindi alimentare il flusso di acquisti e su Azimut veramente abbiamo visto degli anni in cui erano molto evidenti ma visto che a me già siamo ai 17 18 e manco 12 minuti ancora devo far vedere niente direi magari possiamo sforare Pietro nel frattempo nel frattempo ci chiedono il mercato previsto un inserimento di una funzione aggiuntiva legata a seguire gli andamenti degli open inter sulle opzioni relativamente esi in sottostanti è una buona idea questa direi questa è una buona idea ti dico una cosa che è una cosa grazie perché l'avevo pensata con il nostro amico Pierpaolo Soldaini che purtroppo ci ha lasciato un paio d'anni fa e noi proprio in Vesting Room di due anni fa avevamo in mente di presentare questa cosa che conciliava Pierpaolo che era un grande esperto di opzioni e purtroppo lui è mancato proprio pochi giorni prima e quindi così lo ricordiamo però sempre con molto aspetto quindi così però insomma adesso non ci ho più rimesso le mani perché francamente così mi è rimasto un po' il segno di questa cosa perché Pierpaolo è un grande un grande amico una persona che stimavo molto non escludo che lo che lo rifaremo detto ciò velocissimo vi faccio vedere le funzioni principali ma insomma in due mesi ha voglia a girarci e a divertirsi un po' l'indice generale abbiamo visto di far capire il mondo questa tabella del ranking l'abbiamo vista la tabella che ogni giorno si aggiorna è questa qua alle 16 vedrete questi tre box questi tre box che cosa sono il primo today variation ti dice su questi quattro titoli sono cresciuti o diminuite le posizioni nette corte e allora quando è verde le posizioni nette corte sono diminuite cioè vuol dire che si sta ricoprendo lo shot quindi verde tipicamente denaro e quindi su BPM nella giornata di oggi ricordando che però le comunicazioni di oggi di Consob risalgono ai movimenti di ieri perché sono comunicazioni che arrivano alle 16 e quindi evidentemente sarebbero incomplete relative relative a oggi perché la situazione deve ancora chiudere quindi le comunicazioni di oggi 29 sono relative ai movimenti del 28 e questo è bene saperlo in ogni caso verde vuol dire che lo shot si sta diminuendo e quindi ad esempio l'investitore Valeone Capital Management ha ridotto lo shot dallo 0,69 che aveva in precedenza allo 0,58 quindi ha ridotto del 15,94% la sua posizione shot viceversa su IMA e su Mediobanca questi due investitori l'hanno incrementato seconda tabella nuove posizioni quando tu superi la soglia dello 0,50 vedi 0,52 devi alzare il famoso ditino e quindi cittadale l'advisor alzate il ditino e ha detto guardate io nella giornata del 28 ho superato la soglia e quindi da oggi in poi sono costretto anche qui per legge a dichiarare ogni giorno se la mia posizione è rimasta uguale è cresciuta o è decresciuta se andrò sotto lo 0,50 non avrò più l'obbligo e quindi non dirò più nulla terza terzo box che oggi è vuoto vedi non ci sono risultati sono le posizioni chiuse cioè chi va sotto lo 0,50 quindi non non ha portato la posizione a zero ma chi va sotto lo 0,50 non ha più l'obbligo di comunicare day by day quella che è il suo movimento allora qual è l'obiettivo di questo tools di mettere una sorta di telecamera una sorta di gps sulla testa di questi benedetti investitori istituzionali e quindi quando vai ad esempio nella 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 voce position holder scopri quelli che sono gli investitori istituzionali che più come dire fortemente in maniera più decisa si stanno posizionando short sul mercato italiano e scopri che aquare capital management ha sette posizioni short per un totale del 5,62 vai su aquare e scopri effettivamente lui che cosa sta shortando qual è la cosa carina e perché parlo di gps perché tu puoi tracciarne l'andamento negli ultimi anni ecco nel frattempo ci chiede Marco che intervallo temporale dovrei vedere perché lo short sia tra virgolette serio dice ecco non so se quasi può sì adesso te lo mostro questo Marco dammi giusto 5 secondi chiudo questo concetto che secondo me è interessante tu dici prima Stefano ha accennato qualche volta sbagliano qualche volta effettivamente sono una parte sbagliata la cosa interessante di questa di questo che tu questa percezione la puoi rendere scientifica nel senso che tu puoi andare a ritroso nel tempo e scoprire ad esempio a inizio anno il nostro AQR Capital Management che ne so vuoi guardare al che ne so al 4 marzo 4 febbraio 2020 esatto come era come era come era messo cioè cosa stava shortando di fatto quindi seguendo l'andamento di ogni singolo investitore puoi prevedere come dire se la sua posizione short si è conclusa con un profitto con una perdita parlo in maniera spannometrica perché c'è il solito problema dello 0,50 nel senso che tu puoi iniziare a capire le cose come gli stanno andando solo nel momento in cui lui ne fa comunicazione quindi supera lo 0,50 quindi possiamo iniziare a tracciare e monitorare gli andamenti di tutti gli investitori negli ultimi 5 anni sempre però con questo famoso vincolo 0,50 quindi la cosa interessante questa è una caratteristica peculiarità di tutte le aree del tool è la capacità di utilizzare il database a ritroso e quindi tu puoi ricostruire i movimenti del singolo investitore a partire dalla loro prima dichiarazione di superamente la soglia e lo 0,50 e questo vale per tutti noi ad esempio abbiamo fatto un approfondimento sui sui movimenti di Reidalio sai che gestisce un hedge fund gigantesco che spesse volte ha scommesso contro l'Italia e quasi sempre ha avuto ragione e quindi insomma ti dà contezza oggettiva di come effettivamente questi investitori si sono mossi nel passato e quante volte effettivamente erano la parte giusta e quante la parte sbagliata fermo restando che c'è dello 0,50 e questo è anche un modo come dire interessante per capirlo adesso come si utilizza perché poi siamo tutti concetti teorici come si utilizza questo strumento se tu vedi che Bridgewater che è il famoso fondo gigantesco di quest'icona del mondo degli investimenti di Reidalio inizia a scioltare pesantemente le azioni italiane adesso mi viene a pensare che o lui è un pazzo forzennato che ama perdere soldi oppure se Reidalio punta contro il mercato italiano e alcuni titoli sostanzialmente io eviterei di andare di conto questo è uno strumento come dicevo in apertura forse anche un po' per paridi nel senso che tu hai la capacità di guardare il campo di battaglia da lontano e vedi da una parte le truppe corazzate quella degli investitori istituzionali e dall'altra invece poveracci noi che abbiamo gli investitori di retail che hanno veramente gli strumenti arcaici allora tipicamente puoi decidervi se andare a sinistra verso le truppe corazzate o a destra verso diciamo gli investitori che invece hanno magari le mazze e i bastoni allora ci sta che in una battaglia epica i bastoni vincono contro le truppe corazzate perché magari erano particolarmente coraggiosi prestanti però in linea di principio diciamo vincono quasi sempre le truppe corazzate e questo è bene sapere allora qui hai la misura di dove stanno gli investitori dove stanno shortando gli investitori istituzionali cosa stanno shortando e se lo short viene da una ricopertura quindi si stanno tirando i rimi in barca o piuttosto stanno scommettendo in maniera più forte su una scommessa di bassista capisci bene che è un vantaggio non marginale sapere effettivamente i grossi cosa stanno andando a shortare o a ricoprire e qui puoi fare anche qui mente locale di tutte quelle che sono gli investitori anche qui è evidente che ci sono degli istituzionali con le spalle più grandi e non a caso ho menzionato più giuote invece degli istituzionali magari che entrano più in punta dei piedi e anche questa è una cosa allora Pietro un'altra domanda perdonami facciamo un esempio pratico Diasorin ci dice mi fai vedere quanti sono short ci sono su Diasorin cioè si può fare anche questo mestiere ce lo chiede Vittorio assolutamente sì un esempio pratico volentieri Diasorin è il dodicesimo titolo più shortato ma questo ribadisco un'informazione che non serve a nulla cioè dire che Diasorin è il dodicesimo titolo più shortato vale zero è la stessa informazione che trovi su Città non serve a niente perché questa è l'informazione che serve te lo faccio vedere nel grafico capire se lo short su Diasorin è crescente piuttosto che decrescente da qui vedi andiamo a analizzare lo zoom e grazie all'audio perché probabilmente io mi sono troppo dilungato nella teoria ma la pratica è fondamentale da qui vedi che lo short che era lo 0,79 al 9 giugno del 2020 adesso sta vedi crescendo vado step by step il 15 giugno 1,31 si è stabilizzato poi ulteriormente è cresciuto 1,44 e poi si è stabilizzato 1,44 e anche qui puoi andare indietro nel tempo per capire chi effettivamente a inizio giugno era short vedi c'era solo un investitore short a inizio giugno che era il Canada Pension Plan Investment Board e adesso a quello si è aggiunto un ulteriore investitore e quindi anche qui puoi tracciare i movimenti quindi se dovessi dire che se Diasorin è un'impostazione più razzista che ribassista in questo caso evidentemente ha più un'impostazione ribassista perché lo short come vedi sta progressivamente crescendo negli ultimi due mesi non è una situazione così eclatante perché poi il lavoro che cercheremo di fare è individuare le situazioni più eclatante come lo faremo utilizzando questo strumento Issuer Historical Variation vai qui perché certo non ti puoi ammazzare tutti i giorni a perdere un sacco di tempo a capire tutti i grafici a vederlo questo è uno strumento molto utile perché ti dà l'aggregato e tu gli dici mi dici per favore negli ultimi gli chiedi mi dici per favore negli ultimi 30, 60, 90, 180 o vuoi anche selezionarlo tu il periodo con questo menu mi dici per favore i movimenti più eclatanti ovvero i movimenti magari negli ultimi cinque giorni di crescita più evidente delle posizioni nette corte e tu scopri che negli ultimi dieci giorni le posizioni short su Leonardo sono quasi raddoppiate quindi sono cresciute del 98% e sono passate dallo 0,52 del 22 luglio all'1,03 attuale capisci Stefano la rapidità con cui riesci a individuare delle situazioni estreme così come puoi guardare l'incontrario e dici mi dici viceversa negli ultimi che ne so facciamo per cambiare orizzonte negli ultimi 30 giorni quali sono state le ricoperture più più brutale più veloci e qui quindi fai 7 meno 30 giorni e scopri che le ricoperture più forti negli ultimi 30 giorni sono avvenute in primis su Cattolica lo short si è ridotto al 34% passando all'1,05 allo 0,69 Brunello Cucinelli a seguire e quant'altro allora questo questa voce serve per mostrarti in pochi secondi quelli che sono gli elementi i movimenti più forti i movimenti più esplosivi se poi invece questo aggregato per azione se invece vuoi vedere i movimenti più importanti più esplosivi più violenti del singolo investitore vai su quest'altra voce che si chiama Older Historical Variation e cerchi di isolare quelli che sono i singoli investitori che si stanno muovendo in maniera più brutale più violenta sul titolo e qui scopri che negli ultimi 30 giorni l'investitore che si è mosso in maniera più violenta è stato il Canada Pension Plan Investment Board che su Saras ha incrementato lo short passandolo dallo 0,51 del 26,06 all'1,11 attuale quindi la differenza fra l'informazione precedente quella attuale è che qui aggreghiamo per singolo investitore vedi ci sono tutti gli investitori che fanno i movimenti più eclatanti qui invece aggreghiamo sul titolo cioè voglio sapere i titoli che hanno i movimenti più eclatanti e qui su IMA va fatta una riflessione nel senso che qui vedi su IMA adesso te lo faccio vedere nel dettaglio gli investitori istituzionali si erano evidentemente sbagliati perché oggi è scattata un'offerta pubblica di acquisto e qui andiamo al punto decisivo nel senso che questo strumento non è tanto uno strumento di market timing cioè non è uno strumento che ti dice ok lo short sta crescendo compra piuttosto che vendi ma ti dà la misura di come e quali sono i titoli più movimentati tu sai bene Stefano che il lavoro del trader non è tanto è solo un lavoro di market timing ma è un lavoro di stock picking cioè individuare i titoli su cui c'è più movimento e quindi una volta che tu hai individuato il titolo su cui c'è più movimento e quindi nel particolare IMA vai a settarti il tuo bel grafico e aspetti chiaramente che un'indicazione grafica ti confermi quella che è un po' l'intuizione della suggerita al Big Short Hunter quindi Big Short Hunter non è uno strumento di market timing ma piuttosto è uno strumento di stock selection cioè ti fa porre particolari attenzioni su alcuni titoli che evidentemente sono al centro del dell'interesse degli investitori istituzionali vedi su IMA è molto evidente che lo short è cresciuto in maniera molto repentina recentemente evidentemente qui gli investitori istituzionali sono stati colti alla sprovvista ma evidentemente il movimento era come dire controintitivo sul grafico e quindi lasciava spiegare un violento movimento direzionale quindi quando si vedono dei movimenti molto bruschi sul singolo titolo il consiglio che mi sento di dare teniamolo in grande osservazione chiuderei molto rapidamente guardando poi ci sono un paio di domande esatto prima di questa dice una domanda ci dice ma poi per tutti quelli Andrea deve andare hai la registrazione disponibile allo stesso link senza problemi così come per tutti alcuni dice non capisco il significato dei numeri ripeto sul sito bigshorthunter.it che poi vi rilascio in chat c'è anche un tutorial e comunque potete sempre scrivere a Pietro a info sstrader.it per poter appunto avere tutte le informazioni i numeri i numeri sono perché dell'inglese come perché dell'inglese perché le parole di help le hai messe in inglese perché ho utilizzato lo stesso metodo che utilizza CONSOB cioè la stessa nomenclatura che utilizza i termini scelti sono gli stessi di CONSOB quindi per quello che sono stati mantenuti in inglese esatto così per dare coerenza con tutto allora se vorrei dire andare al dunque è più valido risposta secca per intraday multiday o su che scala temporale allora adesso ti dico i sei modi in cui li utilizzo in cui rispondo anche a questa domanda qua allora perché sembra un un artificio teorico in cui come dire uno utilizza questi dati in maniera un po' velletaria invece ti voglio spiegare praticamente come li uso questi dati li utilizzo in sei modi il primo e questo è proprio il momento giusto per utilizzarlo sai che in questo momento tante tante società italiane danno i numeri di bilancio dello scorso trimestre tu dici che c'entra l'unico shot c'entra molto perché se tu sai ad esempio che domani venerdì nello specifico FCA deve dare i risultati e vedi che proprio nei giorni precedenti al momento in cui una quotata deve dare i risultati ci sono dei movimenti eclatanti delle mani fotti adesso dico per dire non è così ma se domani vedo che tre istituzionali prima dei risultati iniziano a scioltare FCA a me diciamo qualche dubbio viene nel senso che sempre il solito è ragionamento o questi hanno degli istinti suicidi e non ce li hanno perché stanno sul mercato da troppi anni per essere masochisti oppure effettivamente se si muovono prima dei risultati o prima di comunque di informazioni rilevanti informazioni rilevanti che sono sono che ne so per il mondo per l'azienda di risparmio gestito i dati mensili sui numeri del complessivo di risparmio gestito allora se vedi che ne so dico a caso che su Mediolanum o su Azimut decresce improvvisamente lo short o cresce improvvisamente lo short prima di un evento importante come quello hai diciamo il sentore che qualcuno probabilmente stia anticipando qualcosa e quindi questa è la prima cosa rilevante la seconda cosa interessante è che quando vedi un titolo molto short tutti sono tentati a dicere caspita tutti lo vendono lo vendo anch'io in realtà i titoli molto short spesso vanno attenzionati all'incontrario nel senso che se sono molto short appena scattano le ricoperture vedrai che scattano molto e quindi tipicamente quando vedi un titolo molto short è il caso di BPM ad esempio azimut 18-19 BPM adesso era super shortato adesso vedi il titolo ha preso un trend più rialzista proprio nel momento in cui sono scattate le ricoperture quindi il focus va messo sui titoli molto shortati da come potenziali short quando lo short è crescente quando quindi le mani forti stanno incrementando le loro posizioni corte viceversa diventa un long quando le stanno ricoprendo terza ipotesi vendere allo scoperto il titolo su cui sta crescendo molto lo short anche qui lo strumento ti dà un primo input poi starà a te utilizzando tipicamente io utilizzo l'analisi tecnica per avere un conforto diciamo sul timing su trovare un punto di ingresso ottimizzante da lì poi si parte per l'ingresso quindi lo stock il big short hunter non è uno strumento di market timing cioè non ti dice domani compra questo ma ti dice domani attenzione a questo perché si stanno muovendo le mani forti e come sai le mani forti non fanno trading in tra day cioè non aprono e chiudono le posizioni con la logica di tre giorni lo fanno tipicamente per fare portafogli e per fare posizioni quindi è uno strumento che ti fa mettere il focus su determinati temi quarto modo acquistare il titolo su cui scattano le coperture più o meno l'abbiamo detto questo è molto utile anche in fase di aumento di capitale vedrai che quando insomma ci sono delle operazioni di arbitraggio che si possono fare tra diritti e azioni lì lo vedi in maniera molto evidente perché vedi come gli investitori istituzionali si muovono a fare questa operazione che anche gli investitori di retail un po' più schillati fanno e quindi questo è molto utile soprattutto nei momenti di aumento di capitale quinto punto è forse il più interessante costruire degli spread che cosa vuol dire costruire delle operazioni spread trading costruire delle operazioni in cui compri il titolo su cui stanno scattando le ricoperture e viceversa vendi allo scoperto facendo una sorta di edge di copertura il titolo su cui invece stanno molto crescendo gli short il senso qual è di essere non direzionali scommettere sul fatto che sul titolo su cui sta decrescendo lo short stanno scattando le ricoperture e quindi tenderà a risalire ma per essere coperto riprendi anche a copertura una posizione short sul titolo su cui c'è una dinamica esattamente opposta il titolo su cui stanno crescendo in maniera molto repentina gli short quindi l'altro spread si può fare invece essendo sostanzialmente market neutral e quindi comprando i titoli su cui sta decrescendo lo short ma accanto all'acquisto mettere magari uno short di indice quindi essere sempre più mineggiati quindi compri il titolo e shorti l'indice o viceversa vendi il titolo e compri l'indice nel caso il Fuzzimib e quindi un minifib o quant'altro quando effettivamente le cose stanno andando nella direzione opposta quindi quando vedi che lo short sta salendo in maniera molto rilevante soprattutto lo short sta salendo in maniera come dire condivisa quando tanti investitori istituzionali iniziano a shortare presentemente lo stesso titolo la domanda è sempre la stessa o questi sono pazzi o questi evidentemente sanno qualcosa o stanno elaborando le informazioni in maniera più evoluta e quindi tipicamente stanno potrebbero essere la parte giusta del mercato quindi in conclusione a che cosa serve questo tools a capire effettivamente il big money cioè i soldi veri che muovono il mercato da che parte stanno andando lo capiamo in maniera come dire parziale perché lo 0,5 è la discriminante quindi non l'investitore che apre anche una piccola posizione short lo devi dichiarare ma lo devi dichiarare quando supera la soglia ma è comunque secondo me di estrema utilità io lo utilizzo in questi sei modi lo utilizzo anche per chiedermi se effettivamente mi sto mettendo contro le truppe corazzate o meno e anche quando apro un'operazione short per capire se sono in buona compagnia e quindi insieme a me magari sta shortando anche Bridgewater o tanti investitori con le spalle grosse o piuttosto è una mia intuizione come dire isolata e stemporanea quindi io insomma posso dire che è senz'altro uno strumento che che ha delle delle grandi potenzialità e va monitorato veramente in pochi secondi al giorno perché la cosa che ti interessa è vedere anche qui i movimenti più eclatanti abbiamo visto con il Pulse possiamo fare delle interrogazioni e quindi in pochi secondi riesci a capire effettivamente quelli che sono i titoli su cui c'è più c'è più come dire attività degli investitori istituzionali e quindi tipicamente i titoli che sono destinati poi agli strappi di prezzo e qui magari concludo guardando le performance giornaliere di oggi il mercato ha chiuso proprio in questo momento e non a caso è un puro caso che registriamo oggi il webinar ma se vedi il titolo più acquistato la variazione più rilevante oggi è Dima più 1326 e la variazione invece più negativa è Disaipem e non a caso questi sono effettivamente i titoli sostanzialmente sul podio fra quelli che sono al centro dell'interesse del mercato quindi di fatto il tools ti ha suggerito quelle che sono sostanzialmente il focus degli operatori dove hai messo il focus degli operatori e quindi anche per chi probabilmente ha un orizzonte più di breve termine ha una ragionevole certezza che quando c'è molto movimento degli investitori istituzionali su un singolo titolo assisteremo a degli strappi di prezzo io che sono un amante del trading intraday ti posso dire che la vera differenza tra un investito di intraday di successo e uno un po' più alle prime armi è capire effettivamente i titoli in grado di strappare quindi di muoversi molto rapidamente in una direzione e quindi di fare tanta strada in poco tempo da qui è evidente che se guardi questa classifica ti fotografa anche dove è l'interesse del mercato e quindi quali sono i titoli sui quali diciamo si può eventualmente anche costruire un'operazione intraday perché non andremo a operare su un titolo bradico che si muove molto lentamente ma anzi su un titolo estremamente dinamico quindi il tools è assolutamente semplice gli aggiornamenti come detto avvengono ogni giorno intorno alle 16 quindi le classifiche i ranking si aggiornano ogni pomeriggio intorno alle 16 quando viene pubblicato l'aggiornamento da da Consob e sostanzialmente ricapitolando per vedere gli aggiornamenti effettuati nello stesso giorno si fa sul net shot delle variation e quindi hai qui la misura di come stanno variando le posizioni anche qui abbiamo scelto questa interfaccia grafica abbastanza intuitiva perché e qui puoi verificarlo anche qui da solo e spero che in questi due mesi di prova avrai la voglia e il tempo anche di giocherellare un po' andando che ne so al ritoso nel tempo se per esempio vuoi vedere che cosa è successo in una seduta di anche cinque anni fa che ne so se vogliamo guardare quello che è successo il 5 dicembre è un numero a caso del 2019 se ad esempio tu scopri che capitano dei giorni in cui ad esempio vedi tutte le variazioni in verde o in rosso è evidente che se vedi che tutti gli investitori istituzionali nello stesso giorno ricoprono le posizioni ribassiste è evidente che capisci che il di mercato è verso una risalita del mercato se invece domani scopri e apri questa schermata e scopri che tutto è rosso e quindi tutti gli investitori stanno incrementando le posizioni short e trovi fra le le posizioni le nuove posizioni short diversi investitori che prendono nuove iniziative short è evidente intuitivo che gli investitori istituzionali stanno iniziano a scommettere pesantemente ribasso sul mercato quindi anche la banale osservazione dei comportamenti giornalieri anche qui per intuizione se scopri che dieci investitori nello stesso giorno iniziano a schiacciare pesantemente l'acceleratore sullo short io francamente prima di aprire un'operazione long ci penserei due volte e viceversa se invece scopri che tutti gli investitori che operano in maniera esogena ognuno staccato dall'altro iniziano a far scattare le ricoperture e tipo come una giata come questa in cui vedi sostanzialmente molto verde è evidente che hai un'implicazione rialzista sulle future evoluzioni del mercato giochiamo sempre sulla sulla stessa dinamica giochiamo sul fatto che gli investitori istituzionali nel tempo tendono a avere più ragione e avere uno strumento che ti monitora ti mette una sorta di gps sulla testa dell'investitore istituzionale e lo traccia negli ultimi anni ti dà anche la capacità e l'opportunità di vedere effettivamente le sue cose spannometricamente sempre quando supera il limite dello 0,50 effettivamente come sono andate quindi se per esempio sei curioso di capire se a QR questo investimento istituzionale sta come dire avendo successo nelle sue scommesse di bassiste puoi semplicemente ricostruirne i movimenti qui ad esempio ho messo dal 5 gennaio vedi aveva shortato molti più titoli rispetto a quelli che shortava oggi e quindi vedi puoi seguirne le tracce questo è il 7 gennaio come è messo che cosa ha fatto e quant'altro da qui l'intuizione vedi di chiamarlo big shot hunter come il cacciatore col fucile puntato perché noi sostanzialmente cerchiamo come dire come i cacciatori di seguire quelle che sono le orme che lasciano investitori istituzionali qual è la differenza sostanziale tra investitori istituzionali e retailer che quando io e Stefano ci compriamo che ne so le gasorin ne compriamo una quantità che non lascia il segno è come un bambino che cammina sulla sabbia un bambino di 20 chili che lascia un'orma molto parziale sulla sabbia un uomo corpulento magari di 150 chili è evidente che lascia un'orma estremamente più profonda e quindi più intercettabile esattamente uguale per il big shot hunter quando un investito istituzionale scelta e supera la soglia del 05 lascia sulla sabbia un'impronta estremamente forte e quindi mi sta dicendo io sto andando in quella direzione e io che sono come dire un big money tipicamente tenderò a fare un'operazione in primis tendenzialmente più vincente rispetto all'investito di retail e in secondo luogo un'operazione insistita l'investito di retail non fa l'investito di retail non fa operazione in tra dei apre oggi lo short e lo chiude domani quindi c'è un'intenzione c'è una volontà dichiarata diciamo a scommettere su una direzione piuttosto che l'altra allora capisci bene che se concordi con me sul fatto che l'istituzionale nel tempo ha più ragione dei retailer per noi è molto importante capire la direzione che sta prendendo il diciamo l'uomo corpulento perché effettivamente lui quasi sempre va nella direzione opportune quindi per concludere poi magari lascio a Stefano per la chiusura direi che è uno strumento assolutamente interessante per chi opera sul mercato azionale italiano estremamente interessante sia per chi fa le blue chips e quindi tipicamente i titoli del Fuzzimi 40 o comunque le small cap più capitalizzate ma anche per chi fa i titoli a minor capitalizzazione come vedi talvolta insomma è abbastanza eclatante anche il movimento su titoli più piccoli che in qualche modo ti dà la misura che qualcosa si sta muovendo cioè se tu improvvisamente scopri che ne so sul titolo e questo adesso te lo mostro OVS le mani forti si stanno muovendo molto fortemente come vedi è successo nel recente passato che OVS è stato preso di mire anche qui per ovvie ragioni perché come sai prima del lockdown evidentemente i negozi fisici erano più in difficoltà rispetto a quelli online OVS tipicamente ha questa peculiarità di essere anche un negozio fisico è evidente che le mani forti si sono nel passato un po' accanite e il titolo poi di fatto ne ha risentito quindi anche molto utile sui titoli sottili perché se il fondo americano si muove per shortare come dire il titolo piccolo in italiano evidentemente lo fa a ragion veduta e qui torniamo al punto che questi qui non amano perdere soldi e quindi quando piazzano le loro scommesse ribassiste lo fanno tipicamente a ragion veduta detto ciò anche loro si sbagliano è giusto e corretto dirlo nel caso di IMA oggi è abbastanza eclatante ma questo è una cosa che ci aiuta a dire che questo strumento non è uno strumento ribadisco di market timing cioè stanno shortando IMA lo vendo anch'io ma è uno è uno strumento che ti dice occhio perché su IMA c'è movimento guardi il grafico se la se trovi delle indicazioni concomitanti anche lato market timing effettivamente ti stai mettendo in una condizione di a mio avviso estremo vantaggio quindi l'auspicio è che dopo questa breve presentazione anche tu abbia la curiosità di approfondire questo tema hai abbiamo detto due mesi di tempo per provarlo assolutamente gratuitamente se sei un cliente di directa viceversa se non lo sei c'è anche questa opportunità esatto carina dei 100 euro di teni bonus più due mesi di quindi tutto è sabato mattina esatto e potrete accedere alle due promo due mesi gratis di Big Shot Hunter e questo per chi è cliente per tutti e per chi non è cliente la nuova promo estiva con i 100 euro di bonus commissionali segnatevi solo il codice promo estate 100 e dal lunedì dal primo agosto dal 1 di agosto sarà sufficiente per attivare la promo sui nuovi clienti Pietro io ti ringrazio infinitamente perché saremo andati avanti per ore ma avremo con i 100 euro